benvenuti a questo nuovo appuntamento con le pillole di lele oggi facciamo un viaggio nel mondo di musica e politica musica e politica di destra di solito sappiamo che è quasi sempre orientato più a sinistra l'universo rock per tradizione per contenuti anche ma esiste anche un rock di destra una certa cultura di destra si ne ho scoperti alcuni intanto consiglio la lettura di questo saggio ormai vecchio edito negli anni 70 dall'arcana e si chiama lambro hobbit autore giuseppe bessarione e si parla di questi festival e del loro contraltare lambro festival del proletariato giovanile di sinistra renudo lotta continua che si tiene a milano nella metà degli anni 70 e a destra questi piccoli festival che si chiamano appunto campi hobbit ispirandosi proprio ai racconti di tolkien e alla tradizione nella quale una certa destra di quell'epoca si riconosceva e si riconosce anche oggi ci sono diversi gruppi si sono famosi beh questo ovviamente non mi pare ma ci sono alcune e nomi che sono diventati in quell'ambiente molto di culto come gli anus da roma band che incide proprio nella seconda metà degli anni 70 alcuni dischi e che vedrà uno dei loro membri morire anche durante gli scontri di piazza alla fine degli anni 70 ne nello stesso periodo sono attivi questi la compagnia dell'anello nuovamente fa capolino riferimento a tolkien questo è terra di tulle hanno inciso diversi album so che fino a qualche anno fa erano ancora in attività dischi che ovviamente sono di difficile reperibilità e spesso e volentieri anche autoprodotti come sempre io vi saluto e vi ricordo di iscrivervi al canale della locomotiva cliccando qui sotto se non lo avete già fatto così sarete aggiornati su tutti i prossimi appuntamenti con le pillole di lele